Care le mie Marilyn, vi do il benvenuto nel mondo della seduzione. Quello che state per scoprire è la bellezza che si celle in voi e che vi farà diventare più attraenti. Ogni donna, ogni donna può essere seducente, tirando fuori la propria femminilità e diventando padrona della sua vita. Beh, se seguirai i consigli che ti darò in questo percorso, che ho per l'appunto chiamato sulle orme di Marilyn, sono certa che migliorerai la tua vita di donna e la seduzione diventerà una parte di te del tutto naturale. Non avrai bisogno di usare trucchetti per essere attraente, basterà essere la nuova te stessa. Ma per prima cosa non devi assolutamente pensare che la seduzione sia qualcosa di negativo. Imparare la seduzione vuol dire imparare un nuovo modo di essere che forse è più produttivo di quello che usi in questo momento. Diventare una seduttrice non cambierà in alcun modo quello che sei, ma semplicemente ti farà scoprire cose straordinarie in più su te stessa. Cose che non sapevi di possedere neanche. È come un talento, un talento che scopri all'improvviso. Quel talento è sempre stato lì, dentro di te, pronto ad uscire fuori. Accade questo con la seduzione, devi solo trovarla in te, perché lei ti appartiene. Tieni a mente che la seduzione è un'opportunità, un'opportunità per trasmettere tutta la bellezza che possiedi. E altra cosa, non pensare che lo scopo unico di diventare una donna seducente sia per piacere di più agli uomini. No, 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 non lo fare. Questa vita non la vivi per piacere solo agli altri, ma soprattutto per piacere a te stessa. Ed imparando la seduzione, imparerai a piacere a te stessa ed innamorarti di te. Ti piacere di più? Ti amerai di più? Ti stimerai di più? Quindi, tieni a mente che diventare una donna seducente serve soprattutto a te stessa. Lo fai per te. Tu devi diventare Marilyn, perché in questo modo farai uscire fuori di te la luce che possiedi. La luce che possiedi come donna. E questo non deve dipendere dall'uomo che hai accanto o che vorresti. E ultima cosa, nessuna donna è nata seducente. Ok? Ci sono donne che assomigliano a Barbie, ma mancano di fascino. E quindi non risultano seducenti, nonostante il loro aspetto. Quindi, non preoccuparti dei tuoi difetti, di come sei oggi, ma tira fuori la tua femminilità e sarai sicuramente più affascinante dei Barbie. Perché la bellezza non risiede solo nell'aspetto fisico, ma anche nel carisma. Il carisma che ogni donna può possedere. Ogni donna. Bene, è giunto il momento di cominciare e ricordo un'ultima cosa. Si diventa quello in cui maggiormente ci si esercita. Quindi noi ci eserciteremo molto durante la rubrica dei seguendo i passi di Marilyn. Quindi per ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!